Ho seguito con attenzione gli ultimi interventi, parto dall'ultimo sulle due taglie, in realtà sulle tre taglie. Mi ricordava un bellissimo libro di Luca Ricolfi, le tre taglie. L'Italia del malaffare, ok, perfetto. Evasione fiscale, certo, non è che uno che spaccia droga fa il 730. Quindi una componente importante dell'evasione fiscale è il malaffare, ma è una cosa diversa. Invece noi mettiamo sempre tutto nel calderone. Poi c'è l'Italia dei tutelati, di quelli che non rischiano, e che quindi vedono benissimo le tasse perché tanto loro sono tutelati, non rischiano. E poi ci sono quelli che tutte le mattine devono alzare la clare. E chiudono 250 aziende al giorno, che è il vaso di coccio in mezzo ai due vasi di ferro. Questo diceva ottimamente Luca Ricolfi. E noi ci dimentichiamo questa cosa qui. Perché è un errore dimenticarci del vaso di coccio? Veniamo al bilancio. Il Parlamento nasce per fare i bilanci. E quindi per prendere delle decisioni. Come ci finanziamo? Fai un po' di deficit. Ti dico, ah beh, pareggio di bilancio. Sì, tre volte. Due volte nell'Ottocento. Minghetti, destra storica. E nel 25, sotto il ventennio, con De Stefano. E non è andata mai bene, tra l'altro. Diciamo che non è stata tutte le... Come hanno fatto il pareggio di bilancio, la destra storica è stata proprio... Appunto. Quindi, anche qui, togliamo dal campo questo luogo comune. Normalmente si fa deficit. Uno Stato fa deficit. Se no, che Stato è? Quanto si fa se uno va a vedere storicamente 35-40 miliardi, 35-40 miliardi, 35... Morale è sempre quello. Tant'è che era 2-2 l'anno scorso, 2-2 quest'anno, 2-2 l'anno prossimo. Io si commettono che 2-2 anche quello dopo, eccetera, eccetera. Perfetto. Allora, Houston, abbiamo un problema. Non è il problema del deficit, che è normale e strutturale. È che dobbiamo crescere di più di quanto facciamo di deficit. Quindi il problema non è il deficit, che c'è sempre stato e ci sarà sempre. È la crescita. E allora guardiamo entrate e uscite di questo benedetto bilancio. E ti dicono, vabbè, riduciamo le uscite. Riduciamo le uscite. 820 miliardi, facciamo un conto della serva. Togliamo il personale che può solo aumentare. Perché ci sono i contratti, blocco delle assunzioni da una vita, e quindi 200 miliardi li metti via. Togli la sanità, più di così che cosa facciamo? 120 miliardi li tiri via. Pensioni, sociale, invecchiamento della popolazione, 350 li tiri via. Interessi, è già buono che sono così, 60 miliardi li tiri via. Investimenti, facciamo malapena 50 miliardi, ci manca che tagli gli investimenti. Li tiri via. Morale, puoi fare un'ottima spending review su 40 miliardi di spesa aggredibile. Quello è quello che rimane togliendo tutto quello che oggettivamente non puoi comprimere. Perfetto. Se io a mia moglie gli dico che gli riduco il budget del 10%, mi fa il divorzio. Supponiamo che nelle migliori condizioni lo Stato aggredisce i 40 miliardi, taglia il 10%, sono 4 miliardi. Bene, non abbiamo risolto niente. Allora, le entrate. Oddio, non solo non abbiamo risolto niente, ma storicamente quando dal 2011 si è aggredito la spesa, il deficit PIL è passato dal 120 al 135, perché le frazioni te le insegnano le elementari, se togli sopra sotto, purtroppo, avendo un deficit PIL superiore a 1, se tagli la spesa è peggio per il rapporto. Però qualcuno si è dimenticato le frazioni fatte le elementari, ma fa niente. Guardiamo invece le entrate, guardiamo le entrate, non che non si può fare niente sulla spesa, sulla spesa dobbiamo trasformare spesa corrente in spesa investimento, ma un altro discorso, non è l'entità, è la qualità. Guardiamo le entrate, va bene, si dice l'evasione e poi veniamo alle proposte, se no solo critica non serve a niente. L'evasione, si diceva prima, metti le tassi sul gioco, va sul gioco illegale, e quindi è una fesseria. Tassi, il gasolio, la benzina, l'effetto... Deprimi l'agricoltura, è l'autotrasporto. Esatto. Scusa, e scarichi il prezzo sul consumatore? Ma ti dirò di più, siccome la tassa etica aumenta la CO2, perché i nuovi diesel inquinano meno della benzina, ma vaglielo a spiegare, ci vuole un quarto d'ora. Va bene, quindi che succede sull'evasione? L'evasione è tanta roba, togliamo il malaffare che è malaffare, e quindi non è evasione. Logico che chi vende droga non fa il 7,40, va bene. Poi c'è l'economia informale. L'economia informale è una scelta. Il pescatore di Ravenna, dico Ravenna per non dire Mazzara del Vallo, ma è lo stesso, che oggi magari esci di notte a pescare in nero, se tu domani gli dici, sai cos'è la novità? Devi fare la fattura elettronica. Dici, no, no, un momento, io sto al bar e prendo la carta gialla del reddito. Quindi non esce. Quindi c'è una componente di economia informale che è economia informale, che se tu la metti sotto il regime non esiste più. E a questo punto non paga manco l'iva della macchina che compra. L'Italia è più complessa di quello che raccontano sui giornali. Poi c'è l'omessa fatturazione e le illusioni e le evasioni di carattere internazionale. Ora, noi perdiamo 10-15 miliardi, l'ultima è la cementier che è andata in Olanda. Iniziamo a porci il dubbio di non far scappare le aziende e tenerci a casa quei 10-15 miliardi l'anno. Non è impossibile. Poi c'è l'omessa fatturazione, il mitico idraulico, che adesso va di moda, che dagli all'idraulico. Perfetto. Peccato che tutti si dimenticano che l'idraulico, che magari nel corso dell'anno non ha fatto tutte le ricevute, quando vado al commercialista, il commercialista gli dice vai che hai fatturato poco. Adesso vengono e ti staccano le orecchie, devi dichiarare di più. Quindi quelle che non ha fatto le dichiara tutte in una volta. Però vaglielo a spiegare dentro al MEF che il mondo reale funziona così. Lì ancora pensano che quello non fa le ricevute. E qui abbiamo due filosofie. Allora, sostanzialmente due filosofie. La filosofia che pensa che ottieni di più semplificando e la filosofia che pensa, ah no, qui c'è un mondo, adesso mettiamo in piedi un algoritmo, siccome il 98% delle aziende italiane sono piccole, piccolissime, lo 0,08% sono grandi aziende, mettiamo in piedi un algoritmo per andare a martellare tutti i piccolini, dimenticandoci che sono una miriade e uno diverso dall'altro. Quindi l'algoritmo non funziona per definizione. Avete mai visto i commercialisti fare sciopero? Hanno fatto sciopero. Perché l'ISA, che ha sostituito gli studi di settore, è enormemente peggio degli studi di settore. Perché si è capito che non funziona. Tu non puoi con un algoritmo fare la fotografia di un mondo che è differenziato. Risultato? Catastrofe. In un mondo normale non funziona, lo tiri via. Bene, per togliere quella fesseria devi mettere 2 miliardi, perché associato a questa fesseria c'è un maggior gettito presunto di 2 miliardi. Quindi hai le mani legate. Tengo la fesseria e uccido, contribuisco a far diventare non 250 ma 300 aziende al giorno che chiudono? Oppure trovo i 2 miliardi per togliere la fesseria? Questo è il problema che la politica si deve porre. Scusa, Massimo, poi c'è un altro aspetto. Il fatto che diventa un disincentivo all'emmersione del nero totale. Ma è evidente. È assolutamente evidente. Però questa è una filosofia. Beh, oddio, è la filosofia, non voglio fare polemiche, ma è la filosofia di Visco che inventa l'IRAP, no? Perché l'IRAP è l'imposta perfetta. Cioè il personale non scappa. Dipendente paghi le tasse, non scappa. Però non è una filosofia che porta a fare PIL. È una filosofia che distrugge PIL. Oppure puoi avere un approccio diverso. Siccome il mondo è complesso, semplifichiamo il mondo. Il benedetto regime dei minimi. Perché ha avuto così tanto successo questa cosa molto semplice? Fino a 65.000 paghi il 15, morta lì, non voglio sapere niente di quello che fai. Tot fatture, 15%. Fine. 600.000 partite IVA aperte, un miliardo e mezzo di gettito in più. Che quando l'abbiamo fatto volevano ammazzarci, hanno detto no, ma qui perderemo un sacco di soldi. Perché? Ma perché è semplice. E quindi togli l'alibi. Tanti in nero dicono la cosiddetta economia informale, ma chi me lo fa fare di rischiare, visto che così è semplice, pago poco e non ho problemi, non ho la guardia di finanza qua, quando giro col furgone che mi controlla, non gli faccio vedere, guarda qua, regime dei minimi, finito. È semplice, non rischi, paghi il giusto. Risultato? Allarghi la base imponibile. Questo è il trucco. Quindi abbiamo due filosofie. O va in quest'ottica, quelle aziende, allarghi la base imponibile facendo pagare poco e semplicemente, oppure l'ottica alla visco, per capirci, il grande controllore che decide con un algoritmo quanto devi pagare. Risultato? Uno ti fa più gettito, l'altro distrugge gettito. Poi ci sono le persone fisiche. E sulle persone fisiche si apre un mondo di discussione. La nostra intenzione era arrivare a fare la flat tax anche per la classe media. Non per i super ricchi, per la classe media. L'idea finale che avevamo visto con Tria era di riuscire ad avere una flat tax fino a un certo reddito e da lì in poi applicare il sistema tedesco. Il sistema tedesco è sostanzialmente progressivo, ogni 100 euro di gettito in più ha un'aliquota puntuale che sale. Però aveva un bel pezzo di semplificazione. Così evitavate il problema della costituzionalità. Esattamente. Così era perfettamente costituzionale, ma soprattutto era semplice. Perché il tema è la semplicità. Oggi uno deve diventare matto perché si deve tenere via 800 euro. Ma come la roba della lotteria degli scontri. Non me ne parlare, io questa no. Ma scusa, ma tu prendi 3 miliardi e abbassi l'IRPEV di 3 miliardi. Devi stare a fare una roba che è regressiva per definizione. Cioè il ricco che ha la carta di credito ha più possibilità del povero che paga i contanti. Tra l'altro con un problema di varicazione tra chi usa normalmente la moneta elettronica e solitamente classe molto affluente, diciamo così, e chi no. Certo. Però vabbè, dopo qui entriamo nella polemica politica. Rimanendo alla filosofia. Quindi da un lato sulle aziende tu puoi fare questa cosa, che è una semplificazione, funziona. L'altra cosa che devi fare sulle aziende è rendere competitivo il sistema paese. Se in Olanda l'aliquota è al 20, tu devi portare l'aliquota al 20, non ci sono storie. Altrimenti l'incentivo a andarsene, già in Italia fare impresa è da folli, pensiamo al caso ILVA, per tutto quello che c'è oltre alle tasse. Se in più gli metti le tasse maggiori, l'impresa non la fa più nessuno. O se appena può, uno scappa. Per cui, per le imprese è quello. Fare come l'Olanda, 20% e regime semplificato. Per i privati, anche qui, a fronte di un sistema semplice, il privato non ha più bisogno dello sconto per il veterinario, del giardino, eccetera. Non è frega niente, sa che paga il 15, è tranquillo. Ecco, questo è. Però sono due filosofie diverse. Semplicità, poche tasse, oppure il controllo.